Per me è un grande onore essere qui in veste istituzionale in rappresentanza dell'intero Consiglio Comunale a dimostrazione della grande vicinanza che le istituzioni di questa città hanno nei confronti di tutte le associazioni, in questo caso di un club service, che si dedichino alla tutela e alla salvaguardia dei minori. Proprio in una giornata così importante come quella per i diritti all'infanzia, internazionale, di importanza dunque transnazionale e soprattutto anche dedicata ai bambini della nostra città. I minori non hanno la possibilità di comprendere quelle che sono le lungaggini talvolta della politica e dunque abbiamo il dovere sacrosanto di dare delle risposte immediate rispetto a chi ha il dovere in questo momento di vivere la spensieratezza, il gioco e lo studio e non già i problemi che paralizzano la loro vita.